Dopo i positivi esperimenti di rivitalizzazione di via Cavour e via Passeri, il comune di Pesaro scommette su via Castelfidardo. A novembre la storica via Fra Corso e Piazzale Innocenti si è giudicata la vittoria di un bando regionale per creare un centro commerciale naturale. Si chiamerà Porta Sale e grazie a fondi di circa 50.000 euro, Pesaro si arricchisce di un nuovo centro commerciale naturale. Dopo quello di via Passeri, nato nel 2021, ora il progetto vedrà protagonista un'altra storica strada del commercio cittadino, appunto via Castelfidardo. Qui gli esercenti puntano ad un salto di qualità delle loro proposte attraverso il coordinamento con l'assessorato all'innovazione. Il bando sul centro commerciale naturale Porta Sale, dove le attività commerciali si sono unite e hanno creato un progetto per riqualificare la via, per creare degli eventi e per pubblicizzare loro stessi anche online, quindi con marketing di impresa. Abbiamo notato che dove sono nati questi centri commerciali naturali, che quindi c'è sinergia tra le attività commerciali, quelle vie, creando degli eventi chiaramente, sono più trafficate, cioè non so, le persone sono più attratte ad andare verso quelle vie e quindi il lavoro sicuramente li ha aumentato. Non noto anche che lavorano tanto quelle vie che hanno all'interno della stessa strada tante attività diverse, dall'artigianato al commercio, ma soprattutto la qualità, sono quelle vie che chiaramente puntano sulla qualità del prodotto e quindi per questo voglio fargli complimenti, sono molto contenta, un altro obiettivo raggiunto per riqualificare il centro storico. Le tempistiche adesso hanno presentato tutta la documentazione, una volta presentata la documentazione hanno fatto l'associazione, quindi so che si sono incontrati dal notaio tutte le attività. Noi del Comune abbiamo già una progettazione per sistemare la via, abbiamo parlato di illuminazione, abbiamo parlato di fioriere e loro poi devono chiaramente decidere quello che hanno inserito all'interno del progetto, quindi anche il marketing di impresa e anche hanno puntato molto sugli eventi che verranno fatti in centro e nella loro via, ma soprattutto che puntano all'artigianato, perché quella via nasce come caratteristica sul fatto che in passato c'erano tanti artigiani.